Musica E salve a tutti ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con GimZain Siamo al 28esimo appuntamento della vostra serie preferita Minecraft Ita Obiettivi La scorsa volta abbiamo fatto diversi obiettivi E questa settimana mi avete lasciato tantissimi altri commenti Ragazzi come sempre vi invito a lasciare qui sotto il video i vostri commenti per gli obiettivi della prossima settimana Vi giuro ragazzi vi sto leggendo tutti e siete fantastici Ma io direi di iniziare subito 3, 2, 1 La prima domanda di questa settimana ce la fa Giuseppe Pandolfo e mi scrive Mettila allo stesso livello del soffitto l'acca E io direi di andarlo a fare subito Ok siamo saliti e io direi a questo punto di farla Come dice appunto il nostro caro Giuseppe Allora Così Effettivamente l'elicottero dove cazzo atterra? Sull'acca Atterra sul pavimento dove c'è stampata l'acca Quindi Bene così Bene così Bah Perfetto Direi che adesso va più che bene Metto solamente le torce come prima negli angoli E poi Riscendiamo HD System HD System Mi scrive Mirko io direi di fare una casa moderna con garage, piscina o giardino Ma sai che ti dico? Ma facciamola Allora Sta casa moderna la facciamo con La facciamo con La facciamo con Ovviamente pietra Vetro Vetro, vetro, vetro Andesita Ancora pietra Mi sa che mi servirà altra pietra Quindi prendo la Gobleston Adesso la mettiamo Ok nel frattempo che cuoce il pietrisco Io mi vado a prendere un po' di sabbia Che avevo messo da parte Se non erro Ditemi di sì Perché mi rompo le palle Ad andarla a cercare Porca puttana Non è vero Ok Andiamo a prendere un po' di sabbia Vedo la sabbia Mi sa che può bastare questa Quindi Andiamo a cuocerla E facciamo il nostro amato vetro Cazzate Qua c'è un'altra pozza Vieni qui amore mio Ok però torniamo a casa Perché se no qui i mostri Mi inculano a sangue Ma non è vero Un'armatura di Gesù Cristo Non mi inculano un cazzo Li inculo io Ragazzi non so perché Ma ho appena cambiato idea Io non voglio fare più Quello che sto facendo Io voglio fare tutta la cazzo di casa In quarzo Sì In quarzo Diamo se in questo piccolo Fortuna Perfetto Andiamo subito nel nether E andiamo a cercare il quarzo Sperando di Non morirci Male E voi che cazzo ci fate qui Scappate da me eh Scappate da me eh Puttane Puttane di mucche E vaffanculo E tu pure Muori 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 Non muori Non muori Muori Stronzo di merda Ciao golem Ancora sei qui Non sei morto Non t'hanno picchiato a morte Ok Mi serve il quarzo Mi serve il quarzo Dove cazzo lo prende Il quarzo 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 E là sopra Ma io là sopra Non ci vado Manco morto Ehehe Quel cazzo Che ci vado io Ecco qua Cominciamo a trovare il quarzo E guarda Quanto ce n'è qui Mamma mia Che venatura Mamma mia Mamma mia Vabbè ragazzi Ci vediamo appena ho finito Perché dovrò cercarne Tipo un botto Quindi ci vediamo appena ho finito Tutto il mondo Allora fatto sono tornato Ho dovuto usare le coordinate Che mi sono salvato del nether Per tornare Perché Come al solito Per chi ha visto i miei Precedenti episodi Mi sono perso 50 volte Allora ragazzi Ho raccolto tantissimo quarzo Ho già fatto i blocchi E io direi che possiamo andare A iniziare il progetto Allora Intanto Mettiamo a cuocere La sabbia Perfetto Ok Ok Perfetto Allora nel frattempo Ho preso anche Un po' di questi Mentre c'ero E li andiamo a posare Li andiamo a posare Dove sono? Dove li avevo messi? Forse qua Oh Dove cacchio vai Spada Li avevo messi qua Sì perfetto Ok E li andiamo a posizionare Qui Ok Completiamo I blocchi Ok Nel frattempo si è fatto buio Non so se avete notato Poso Un po' Di materiali Che non mi servono Ok Perfetto Possiamo iniziare Il progetto Allora visto che Qui abbiamo fatto Il grattacielo Che è comunque Una struttura Moderna Cioè non è Antiquata Io direi Di farglielo accanto Di farglielo accanto Questa casa Però Prima dobbiamo andare a dormire Perché sta tramontando Allora mi serve un crafting Me ne porto Uno dietro Vediamo dove fare Questa Ma tu che cazzo Vuoi stronzo Vediamo dove fare Questa cosa Nel frattempo mi picchio Quell'enderman Vieni qui Muori Dove sei Enderman Enderman Vabbè Fanculo Dove la facciamo Dove la facciamo La facciamo Ok Direi che qui Va più che bene Però Dove c'è la sabbia Quello che rimane Perché io ho devastato tutto Cazzarola E la facciamo così Mi prendo la sabbia E la costruisco io Lo costruisco io Il punto Ah perfetto Qui dove abbiamo sconfitto Il Wither Ah Mi sa che non è Un posto molto fortunato Però ok Anche perché abbiamo avuto Dei problemi Con il Wither All'epoca Ok Ho preso la sabbia Il bello è che voi Avrete visto tipo Che ne so 5-6 minuti Di questo video Io invece ho registrato Un'ora solamente Per trovare Tutti quei cazzo Di blocchi Di quarzo Che ho fatto Vaffanculo Allora No Non la faccio E arrivo al mare Non la faccio E arrivo al mare Però la sabbia Mi serve Visto che L'altra la sto Cuocendo tutta Io direi Di farla Tipo qui Di farla Tipo qui Ok Qui In questo spiazzo Perfetto Allora Io comincio A spianare Ok Direi che lo spazio È stato È stato fatto Un bello Spiazzo Abbastanza ampio Allora Io ho qui Un'immagine Da dove prenderò Spunto Non ve la faccio vedere Sperando che venga Eh Proprio come voglio io Ma non credo Tipo mai Allora Intanto Dobbiamo fare Un piccolo Spiazzetto Così Così Sì Ok Dopodiché Qui attaccato Ci va La piscinetta Ok Che è D4 Perfetto Ok E qui Entra in gioco Il crafting Mi serve La metà Di ciò Per fare Le scale Ok Fatte 16 scale Crafting Stai lì Sì Stai lì No Ti devi levare Dalle palle Crafting Ok Una volta fatta La scalinata Dovremmo Fare Una cosa Del genere Sì Ma Sta tramontando Un attimo Preciso Che torno a casa Perché io non voglio Spiacevoli Inconvenienti Durante le costruzioni Perché Picchio il mondo Qualche sopravvissuto Alla notte Bravi Merde Bravi Cagatevi addosso Bravi Bravi Su questa parte Dobbiamo fare Una cosa Del genere Ok 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 Perfetto Anzi No Dobbiamo fare Una cosa Del genere Invece Una cosa Del genere È lasciare E lasciare Un piccolo Forellino Lì Sì Perfetto Quindi Successivamente Chiudere Tutto Ok E un altro Di qua Perfetto Ok E fino a qua Ci siamo Signori miei Dopodiché Dobbiamo Chiudere Anche qui E fare Una cosa Del genere Ok Tipo per fare Il mini garage Ok Dopodiché Dobbiamo Estendere Questa Così E fare Al di sopra Uno Spiazzo Che prende Tutto Praticamente Sì Ok Piattaforma Fatta Adesso Da questo Lato Dobbiamo Fare Una cosa Del genere Così E Tre Ok Ragazzi Io purtroppo Ho finito Il quarzo Non ne ho Praticamente Più Quindi Il progetto Della casa È iniziato Ragazzi Sta avvenendo A dir poco Bene Ovviamente Ancora voi Non starete Capendo niente Ma Nella Ventinovesima Puntata Di minecraft 8 obiettivi Completeremo Questa Casa Io come al solito Ragazzi vi saluto Vi ricordo come sempre Di iscrivervi Mettere mi piace E commentare Scrivetemi qui sotto Nei commenti Gli obiettivi per la prossima Settimana O anche per l'episodio Numero 30 Ci vediamo al prossimo Appuntamento Sempre qui Con Mirko E GameZane Ciao Ciao